ok io sono pronto allora ragazzi è la prima puntata dopo un mese la sigla è pronta ragazzi la sigla doveva farla Mario la sigla nuova si doveva farla Giorgio chi la doveva fare Giorgio Mario Giorgio Mario Giorgio Mario Giorgio Mario scusate un attimo ma quel negozio che vende sigle è chiuso per ferie ancora sì l'otto settembre è chiuso sì perché lui deve fare settembre le vacanze e quindi ci abbiamo quella vecchia che è bella la settimana prossima è pronta però sì 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 o no se riapre sì 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 o no se riapre sì 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 o no se riapre va beh vai ho ancora voglia di dance ho ancora voglia di dance come ce l'avevo prima è rimasta la voglia ma dopo un mese sai quanto voglio di dance ha uno che sta un mese senza la DJ foray ma ti immagini un ascoltatore che è un mese che sta aspettando questo momento vuoi ballare con noi ragazzi ciao sono Albertino ciao sono prezioso ciao sono progetta oh com'è com'è come state è bello tornare però eh perché così dopo essere stati un po' fermi un po' in vacanza ti torna la voglia di lavorare che poi il nostro dai è un lavoro ci sarà piccolo qua a parlare ascoltare la musica con la cuffia dire le nostre cose presentare dei dischi dai divertimento io mi diverto voi non mi divertite ragazzi io mi diverto un casino perché un casino 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 sì sì ok ragazzi le vacanze com'è andata ma io sono stato una settimana e tu mario ma io sono stato ah bello sì chiedetemi dove sei stato ma chissà dove sei stato Alberto dove sei stato giusto dove sei stato ragazzi io ho portato le foto cosa? no veramente ho portato le foto delle vacanze e questo è il filmino volete vedere prima le foto o prima il filmino delle vacanze? quanto dura il filmino? 1 ora e 20 e foto e foto? no 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 allora se volete vedere il filmino facciamo così mentre facciamo la classifica mandi uno del filmino ah sì? ci commentiamo sì ah come immagine? sì ah qui qui ero qui ero in spiaggia vedi qui sono io che prendo il sole questi sono dei miei amici questo è visto che mare che c'era guarda il mare mazza che è pieno di Heike Alberto qua qua c'è la pista l'atterraggio ma anche quando ritiri i bagagli ecco qua i bagagli qua siamo ai bagagli stiamo ritirando ma non mi interessa ma partiamo? ma partiamo con la ventesima posizione allora sarà una classifica senza canzoni che entrano senza canzoni che escono senza nuove entrate senza salita senza discesa senza ex senza new sarà una classifica un po' un misto un po' un misto bosco le metto solo una palla di gelato no no misto bosco così grazie cosa? ci saranno un po' di canzoni nuove un po' di canzoni di quest'estate un po' di canzoni che non c'erano mai state un po' di canzoni che ci saranno un po' di canzoni che ci sono è un pupurri bella lì numero 20 deja vu con I just can't stop thinking about you ma è giusto il titolo? no non è giusto infatti il titolo è I can't stop basta punto sentiamolo numero 20 un po' di canzoni che ci saranno è giusto più ci saranno po' di canzoni boici ci saranno di canzoni dipartere ci saranno che ci saranno di B ci saranno cos' anche chi ci saranno a così Già mi sta passando anche la voglia di dance Ho iniziato la DJ Parade, vedi che ho fatto anche psicologico, è bastata una canzone, sto già meglio Voi come state? Benissimo, stiamo tutti bene I can't stop it, Deja Vu aprono la DJ Parade al ventesimo posto questa settimana Questa è mia, la riconosco Eh, questa è tua, la riconosco Questa è sua? La riconosci? La riconosco Infatti è la numero 19 della DJ Parade, I Will Rise Again, DJ Forgetta Quando I wake up, it's so quiet, I'm alone I'm lying in an empty room It gets to me for the very first time I've been living here without you And I'm living day by day Wondering why I'm on my own And you're no longer here I've been taking my surprise I'm starting to realize I'm standing strong I'm holding on I was terrified Every new day's all in my life I know I will rise again I was terrified All my life was meant to be a good thing Yeah, I will rise again All those times you lied Took away my pride Never gave me time to resign I've been holding on Without you I know I'll be holding on Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah I was terrified Radio DJ One Nation One Station Siamo di nuovo qui in The Place B Dai nostri studi di Milano L'appuntamento di sabato Tra le due e le tre Sabato sera, domenica pomeriggio Il sabato 8 settembre, domenica 9 Perché chiaramente venerdì era il 7 Lunedì sarà il 10 Quindi non è poi tanto difficile Anche perché poi martedì è l'11 Perché mi avete... Perché stai a dire un sacco di... Ma basta Sì? Ho esagerato con le date? Un po' sì, eh? Non era importante No Allora dopo la 19 di Forgetta I will rise again Ecco la numero 18 Perché naturalmente non sarebbe... Cioè prima c'era la numero 20 Dopo ci sarà la 17esima Poi saliremo verso la 16esima La saliremo verso... Questa è Move Your Feet di Jack Floyd I think I'll give up in a... I believe this is the time for you to move your feet Grazie a tutti. 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 quale appuntamento. Grazie a tutti. 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 Universe con Afterlife, c'è Alba al microfono, Forgetta sta mettendo i rischi per noi e c'è anche Prezioso che ha in mano un aggeggio strano, non so che intenzioni abbia, non so che cosa voglia fare con la mia voce, faccio finta di niente e vi presento la numero 9, vado? Vai! Al numero 9, bello però, come hai fatto? Lo posso dire adesso, non è che posso dire tutto io Spitz reduction in a magazine, and his pleasure in a limousine, in the backshakes a tambourine, nicotine from a silver screen Spitz reduction in a magazine, and his pleasure in a limousine, in the backshakes a tambourine, nicotine from a silver screen Spitz reduction in a magazine, and his pleasure in a limousine, in the backshakes a tambourine, nicotine from a silver screen Spitz reduction in a magazine, and his pleasure in a limousine, in the backshakes a tambourine, nicotine from a silver screen Spitz reduction in a magazine, and his pleasure in a limousine, in the backshakes a tambourine, nicotine from a silver screen And a silver screen, and numero 9 della DJ for a Felix the house cat Che faccio tutte causate su video ad antico numero 8 Eh, questa è differente in gear Drink, have to get drunk 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 I eat food to satisfy my hunger I drink water to quench my thirst I use my mouth and air to blow balloon up Grazie a tutti 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 Grazie a tutti